Grazie a tutti 13, 16 e 29 Ma perché stai giocato ancora? 500, cioè a che non ti vedo tra i vincitori da Dallo 0 A che non ti vedo dai vincitori dallo 0 avanti Cristo però 10 della tier Complimenti in mano di F Lucio Simpatico 66 Oh, si può dire 66, pure tu È Birdman Ah, giochi con me? Mi dispiace ma ormai ho un cuore di ferro Fuori di chiave, sono nato principesso È cresciuto guariero Tre numeri 9, 26, 34 50, 200 e 100 Oh, lampo, finalmente Un pochettino Si è fatto aspettare Però finalmente è arrivato E come è arrivato, signor? 18 Lightning Winner Un casino di soldi Avete vinto? Bravi Prima avevo 5 euro sul 26 Eh Disappoint Piaggia Avete vinto